Vado. Allora, oggi sabato 4 marzo inauguriamo il nuovo istituto di bellezza, parruccheria e centro estetico con nuove news tra cui ci sarà una stanza particolare per quanto riguarda la tricologia, ci saranno i nuovi laser per la depilazione permanente e la grande news che ci sarà all'interno di questo nuovo istituto sarà comunque il tatuaggio permanente per tutte le categorie da quello che riguarda il viso e il corpo. Per il resto all'interno della parruccheria ci sarà questa nuova stanza tricologica che noi abbiamo puntato soprattutto per la cura e la bellezza della persona e soprattutto per le varie anomalie che oggi purtroppo sono in aumento. Quindi vi aspettiamo chi vuole venirci a trovare.